Ciao ragazzi, oggi giocheremo a StumbleGuys StumbleGuys Se toccherò il colore giallo Dovrei, devo fare un giro gratis Andiamo Stiamo andando Noi andiamo in cucina Eccomi Sicarica Ok, qua ce n'è un po' di giallo Quindi dobbiamo stare molto tempo Ehi mamma mia, guarda Guardate qua Ok Questo qua è giallo Quindi non lo dobbiamo toccare Andiamo Raga, l'ho toccato L'ho toccato Quindi dovrò fare Dovrò fare un giro gratis Troverò manche i qualificati Manche i qualificati Perché non ci siamo qualificati Però non importa Quindi 3 2 1 2 Vediamo 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 Doppione Siamo arrivati a 30 Io chiudo qua il video Ciao 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 Grazie.